Sono stato tre settimane fa in Israele dove o si parla ebraico o si parla inglese, però ti ripeto che quest'anno per la prima volta io sono riuscito a parlare con la gente, questo te lo devo dire. Riuscivo ad andare tranquillamente al ristorante, prenotare, fare, insomma io sono molto soddisfatto di quello che ho fatto con il tuo metodo. Sono entusiasta di questo corso, un corso intelligenti, iconograficamente meraviglioso che ti entra dentro. Sicuramente una tipologia di corso innovativo soprattutto perché l'accoppiata corso e tutor è molto molto utile. Penso che sia davvero un qualcosa che non avevo mai visto prima e ho sentito davvero la differenza soprattutto nel parlato. Io oggi ho capito una cosa, che lo impari, lo memorizzi, ma mi sarebbe piaciuto farlo anche quando ero più giovane, ma è stato molto difficile. Comunque il corso tuo è ottimo, funziona bene perché ti porta nel giro nemmeno di due mesi a parlare. Ti viene quasi a volte nella mente proprio la frase senza doverci... cioè lo pensi in quel momento. Sì, a me ha fatto la sensazione, sì sì. Lei ha degli amici, un'americana e un'inglese, quindi mi sono tornata a parlare con loro. Devo dire che a non ho avuto quell'imbarazzo che avevo solitamente, b sono riuscita a capire tutto quello che dicevano, no? Sia accetto americano che accetto inglese. Non solo, poi, poiché ho preso il raffico a parlare con l'amica americana di mia sorella, adesso parliamo anche spesso su whatsapp. Mi sono presa il numero. Questo corso qua mi ha servito tanto per cercare di pensare direttamente in inglese. Infatti mi ha servito parecchio a parlare fluentemente, diciamo, non pensando prima in italiano. Sta iniziando a funzionare. Non mi vengono già in italiano, non mi vengono le parole, non mi ricordo cosa devo dire. Sono lì, così in tranquillità, no? Invece, in questo caso qua, io non lo so com'è, ma funziona. Io sono tornata indietro a fare le prime lezioni. Io mi sono meravigliata veramente come faccio a ricordarmi queste cose qua. Le testimonianze che mi mandi sempre vedo che, insomma, sono felice. Cioè, se c'è gente più grande di me che riesce. Sì, sì, funziona veramente.